e salve a tutti benvenuti benvenuti bentornati qui su go italia siamo quasi arrivati alla fine dopo momenti e lacrime virili come direbbe qualcun altro insomma io ho pianto veramente vabbè è stato un momento un po' imbarazzante ma vabbè cose che capitano noi continuiamo qui su tiktok siamo in live da 6 ore 8 minuti siamo ancora svegli incredibile questo gioco fa miracoli ragazzi il gioco fa miracoli anche se ci siamo stati sono stati un attimo poco come dire lucidi in alcuni momenti nel gioco se potevamo fare meglio potevamo fare molte non so dobbiamo fare molte più cose però insomma credo che alla fine l'avventura mi ha soddisfatto per la terza volta in realtà mi fa piacere che alcune cose non le ricordavo ecco la vecchiaia a volte ha degli aspetti positivi ecco non so se il neurone sta ancora è ancora attivo in realtà mi ricordo che diciamo non c'è tantissimo però vorrei anche non ricordarmi bene probabilmente non ricordo bene perché c'è una parte di abby e forse ancora la parte di ellie è probabile possiamo cercare le luci ricordo qualcosa del genere che vediamo un po' tutto 24 qualcosa 4 scommetto che arriva che cosa ci siamo versi ok finalmente un po' di action ebbè ragazzi sono un po' rinco vabbè ebbè ragazzi è scusate bene per siente ok è tutto a posto forse continuiamo torniamo seri per piacere cazzo ok quanti ragazzi siamo arrivati a 50 l'ho finito non lo so ragazzi non lo so quattro giorni 24 17 fuochi meno io credo un giorno e mezzo due giorni sei sempre il solito cosa niente e se non li troviamo qui se restiamo senza indizi cosa vorresti fare non lo so partire credo ok per andare dove a ovest chissà cosa c'è nient'altro che oceano ok ah non abbiamo tutto tutto abbiamo un menù incompleto interessante sta cosa ma perché non li vabbè va perché ci manca eh sì non ci abbiamo non ci abbiamo più niente io ho convinto che avevamo ancora le cose vecchie e invece no eh vabbè ecco perché non era possibile tieni gli occhi aperti vabbè ci sta ci sta grazie follower che mi ha dato il follower bellissima questa e nerti salve benvenuto in guitalia benvenuto 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 allora continuiamo ma perché non avevo il cassero il cassero il cassero il cassero il cassero il cassero abbiamo ancora diverse fragole se troviamo le luci festeggiamo con le fragole altrimenti ci consoliamo con le fragole pico ok vediamo se abbiamo tipo chito l'area se vai altri simboli un attimo che ho sentito qualcosa di qua se no devo esplorare tutto come facevo all'inizio vediamo buongiorno buongiorno grazie grazie a mimmo anzi folgore scusa sembra abbandonata da anni continuo a cercare bene cosa abbiamo qui 24 25 constance la casa è questa ok ma non c'è niente come come fai a dirlo chiusa chiusa ok quindi c'è qualcosa giù ma io non lo ricordavo comunque c'è entrata giù c'è anche qualcosa ma forse è tutto vuoto già ho la stessa sensazione no no abbiamo preso un po' di cose che ci servono non scherziamo proprio ricordi il nostro bagno in piscina mi sovviene qualcosa grazie grazie pasquale è vero quello figo ciao adoro i vostri nick ragazzi c'è un sacco di nick originale ho capito è bloccata inutile voglio dire è vero che ci ha fatto una certa però cerchiamo di non ok di qua vai nada nada ok ricordate cominciamo a recuperare qualcosina interessante non so se ci sarà qualche jumpscare non lo so ah ma no abbiamo fatto il giro perché era chiusa giustamente abbiamo fatto il giro completo però abbiamo ancora qualche area da trovare qui abbiamo finito no aspetta abbiamo qualcosa di qualche easter egg non lo so non credo di no credo che non ci sia nulla di particolare non che io ricordi forse dobbiamo spostare questo coso può essere che succede sei incantato sei incantato sei incantato ragazzi sei incantato no non ci vabbè sei sglicciato sei sglicciato ma non ho capito che c'era qualcosa lì spostati con la forza brutta di Abby vai grazie e di forever posso contare su di te se non mi ricordo qualcosa sicuramente è lì forever immagino che non è il primo gameplay che vedi su tiktok cioè quanta gente hai visto chi è il più bravo la classifica dei migliori come possiamo dire non mi viene giocatore di The Last of Us vabbè volevo cognare un nuovo termine ma non mi viene il cavolo i The Luster The Luster migliore The Luster sicuramente non coi tale non a quest'ora prego c'è la radio però vediamo un attimo ok corrente prima esatto e poi radio questa frequenza è ancora in uso qui vedi un elenco chiamate un un cosa una breve lista di numeri e lette qui ebbi da Santa Barbara mi ricevete in attesa in attesa c'è nessuno che cos'è sono frequenze questa frequenza è ancora in uso qui ebbi da Santa Barbara mi ricevete Santa Barbara California questi sono avamposti delle luci non lo so qualcuno mi riceve pronto questa frequenza è ancora in uso qui ebbi da Santa Barbara pronto pronto questa frequenza è ancora in uso pronto qui ebbi da Santa Barbara qualcuno mi sente se mi sentite rispondete rispondetevi ti prego pronto ebbi ti sentiamo forte e chiaro dove sei di preciso a Santa Barbara 24 25 constance ci hanno segnalato una base ma questa è abbandonata stiamo cercando le luci io io sono una luce dove riassegnata a un avamposto di Salt Lake chi gestiva la base il dottor Gerry Anderson era mio padre caspita abbiamo evacuato le stazioni ausiliari e trasferito tutti al quartier generale in quanti siete lì siamo circa duecento al momento ogni mese arriva qualcuno Owen lo diceva c'è posto per altri due dove vi troviamo sull'isola di Catalina nel grande edificio a cupola di Avalon vi troveremo noi ok ok ci vediamo presto passo e chiudo non vedo l'ora auguri ebbi da Santa Barbara passo e chiudo forza torniamo alla barca sì ok avevi ragione come scusa perché vuoi farmi ripetere che mi sbagliavo perché mi fa sentire meglio è una cosa molto femminile non me ne vogliate non me ne vogliate non me ne vogliate a parte che l'aria è ripulita completamente quindi possiamo andare temo che succeda qualcosa ehi di qua dove stai? dove stai? no ho perso lev lev dove sta lev l'ho detto di qua e l'ho perso vabbè mi sa che è dall'altra parte comunque che sta fai' che sta fai' vabbè ecco lo sapevo lo sapevo becce di cacca becce di cacca vieni qui dai fammi vedere sei pronto? che vuoi fare? aspetta ma che cazzo? a posto dove sta ragazzino? non toccarlo non toccarlo stronzo una gran bella preda siamo tornati di nuovo con Ellie e da qui dove sei andato 24 25 constance sì deve essere questo ok faccio un altro piccolo metterò delle piccole puntate qui bisogna poi di fare anche l'editing giusto però sto facendo la registrazione quindi insomma aver evitato il voice over ci metto adesso la mia voce e vi dico che questo episodio termina qui la live su tiktok però continua quindi non perdetevi il prossimo episodio che comunque sarà caricato a brevissimo ciao 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 saluto lago Italia Al prossimo episodio